Eccoci qui, ci troviamo con Antonella Salvucci. Ciao a tutti, siamo qui, siamo scesi in campo, è il caso di dirlo, perché lo facciamo per una nobile causa, quindi mi sono attivata immediatamente. Non so se riuscirò anche a fare un po' di gioco duro, però sicuramente daremo il calcio d'inizio. Ecco, perciò giocherai anche tu? Vediamo, sarà una sorpresa per chi vorrà seguirci. Ecco, perciò noi ci troviamo qui per il piccolo Leo, noi siamo tutti con Leo e tu sei sempre presente in molti eventi comunque di solidarietà. Eh sì, è quello che mi piace fare, spero di diventare anche sempre più popolare in modo di poter dare la mia immagine veramente con tutto il cuore per queste cause che veramente ci nobilitano. Si dicono che sia un dovere degli artisti mettersi a disposizione e quale migliore occasione. Infatti io ti ringrazio per quello che fai e ci vuoi dare qualche anticipazione invece su qualche tuo lavoro imminente? Beh sì, ho lavorato molto in film e più che altro girato in inglese, quindi adesso sto aspettando per questo film ad episodi che stiamo continuando a fare da New York, Cannes, Venezia dove sono appena tornata, si chiama Enforcer e quindi appena sarà pronto vi darò notizia. Perfetto, allora noi attendiamo e vogliamo fare un saluto a tutti i tuoi fans che ti seguono? Ma certo, un saluto enorme e cercatemi pure sul mio sito ufficiale www.antonellasalvucci.com Perfetto, perciò chi ancora non c'è, ripetiamolo www.antonellasalvucci.com Perfetto, io ti ringrazio e complimenti per tutto. Grazie, grazie a voi. Ciao, grazie. Un saluto a tutti. Ciao.